allora siamo qui oggi alla casa museo possiamo dire di gaiani che un artista storico bolognese con la professoressa angela zanotti gaiani per raccontare un po questa casa l'artista e la nascita della fondazione la creazione di questa fondazione che è avvenuta ormai 45 anni fa dice la fondazione ha inaugurato in ottobre 2013 2013 18 ottobre ed è diventata operativa diciamo come come primo evento con l'art city di 2014 e da allora siamo sempre stati invitati anche quest'anno nonostante che i criteri siano diventati più stretti siamo stati accettati anche quest'anno abbiamo sempre partecipato ad art city con grande successo anche di pubblico perché viene quello è un bel momento per la città di bologna anche molta gente da fuori quindi abbiamo quindi già quasi cinque anni questo è il quinto anno chi è gaiani e gaiani è un personaggio è un personaggio non solo era un uomo affascinante affascinante proprio da tutti i punti di vista estroso nel vestire grandi cappelli una mantella vista in austria addosso a un conte austriaco se ne era innamorato follemente della mantella non del conte ovviamente e e aveva questa storia aveva fatto medicina aveva fatto il conservatorio prima lui ha fatto dieci anni di conservatorio musicista musicista poi ebbe un problema causato all'orecchio perse l'udito da un orecchio causato da lauromacina ma allora lauromacina poteva fare questi effetti e lasciò la musica e quando gaiani lasciava qualcosa non è che la riva la lasciava per sempre non ascoltò mai più musica in tutta la sua vita e non ha mai più suonato suonava pianoforte intanto faceva la facoltà di medicina con grandissimo successo si è laureato a 24 anni prima prima sessione a giugno con 110 e diventò si specializzò in ottorino la ringoiatria diventò aiuto entrò nella carriera ospedaliera e aveva una carriera ospedaliera di grandissimo successo era considerato uno dei migliori chirurghi naso gola eccetera che ci fossero a bologna la gente ancora dopo lo fermava per la strada ma poi ti dico come reagiva lui nel 68 fu colpito dal 68 intanto che però faceva il medico cominciava a fare faceva soprattutto cominciò con le incisioni fate le incisioni che sono in ingresso sono la prima che andarono anche alla bienale di venezia e si dedicò e non solo ma lasciò la medicina completamente cioè dalla sera alla mattina così come aveva lasciato il pianoforte lasciò la medicina e tutto l'ambiente dei medici e si mise a fare l'insegnante di anatomia artistica prima ad urbino e poi all'accademia di bologna e nel nell'ottantuno e l'ottantuno sì per caso io abitava roma l'ho conosciuto qua a bologna era già libero da tutti i legami prima durante e dopo quindi e noi ci mettemo insieme ci sposamo subito noi ci siamo sposati proprio anche perché a bologna io avrei voluto tanto che venisse a stare a roma con me ma gaiani non si schiodava da bologna era proprio bolognese fino al midollo e a bologna a bologna di avere dei rapporti almeno per me non mi potevo fare quindi ci sposammo e siamo stati sposati 28 anni finché lui è morto questo era gaiani però questa è la parte diciamo della vita personale intanto che faceva l'accademia e cioè che faceva l'insegnante dell'accademia faceva l'artista prima in pittura soltanto come come vedi però sempre con la presenza della fotografia e poi dopo dall'ottanta 81 faceva fece gli ultimi ritratti grandi ritratti in pittura poi si dedicò soltanto alla fotografia come al solito chiusa con una cosa chiusa e non voleva neanche sentire parlare di pittura e quindi come mai questo passagionetto drastico perché lui diceva che il il mezzo espressivo che era in quel momento la pittura non aveva più niente da dire e che la fotografia era in mezzo del futuro comunque e in ogni caso quello che per lui a lui rendeva possibile esprimersi in modo e con varie tipologie perché lui faceva nudo in accademia già negli anni 70 ma fine anni 70 ma poi dopo l'ha continuato per tutto fino alla fine paesaggio quasi sempre in bianco e nero gaiane è un uomo del bianco e nero però negli anni in cui è stato forse più sereno e tutto ha fatto anche molto colore i paesaggi della pianura e soprattutto le foto di viaggio e la serie di new york perché noi lui c'era già stato un anno ma con me che andava in america tutti gli anni passavamo sempre un mese a new york per cui lui ha documentato a suo modo il cambiamento di new york della città di new york poi viaggi noi abbiamo viaggiato veramente in tutto il mondo veramente in tutto il mondo e quindi abbiamo un patrimonio di fotografie di viaggio che sto facendo adesso abbiamo un archivista che cura l'archivio gaiani eccetera ma le diapositive c'è una persona particolare uno del circolo della gondola di venezia che si occupa di mettere in rete tutte le diapositive di viaggio tutte le diapositive di viaggio tieni presente che noi qui ha detto marta che dopo conoscerai la nostra archivista che abbiamo circa 40 mila caspita tra film tra pellicole diapositive è un patrimonio enorme un archivio enorme quindi questo patrimonio a un certo punto si decide di farlo confluire in allora a questo punto cioè non era ancora io volevo fare qualcosa volevo fare qualcosa e pensavo era sbagliando ma però mi sono corretta in tempo di vendere questa casa e con il ricavato istituire una borsa di studio cose di questo genere pessima idea sarebbe stata e mi sono ravveduta in tempo e ho pensato no allora tengo la casa finché tengo la casa e ne faccio però una fondazione è il modo migliore di tenere l'artista vivo quindi noi diamo un premio tutti gli anni prima era di 3000 euro adesso avremmo dovuto calare a 2000 per forza perché non abbiamo non avendo introito a un certo punto i soldi poi finiscono e non ce n'erano tanti neanche all'inizio e diamo un premio a un giovane fotografo per un progetto che deve fare all'estero e sono cinque anni quest'anno è stato sarà il quinto anno no abbiamo già fatto cinque anni 2013 14 15 16 17 e 18 questo sarà il sesto anno sesto anno a cui facciamo un premio di fotografia poi facciamo promuovimento qual è il tema come scegliete ecco il progetto deve essere il candidato deve presentare noi chiediamo pochissime cose deve presentare un progetto fattibile all'estero perché per carlo andare all'estero voleva dire la libertà quindi ho voluto tenere questa questa cosa su questo spirito è dato in maniera pura assolutamente gratuita nel senso che noi la commissione giudica la validità e fattibilità del progetto se tu mi dici che vuoi andare a polo sud è chiaro che non ci vai a polo sud no ma se è fattibile e hai un lavoro di base che dice che sei un promettente diciamo un promettente non ha un eccelso eccetera però c'hai le carte in regola c'hai le carte in regola per poter fare questo allora questi sono i criteri per quello che io non ho mai voluto nonostante le opposizioni che si fanno sempre più crescenti e poi dopo ti spiego perché io ho sempre voluto mantenere la gratuità del premio nel senso che perché carlo avrebbe voluto così nel senso che se tu prendi il premio poi decidi sulla base di questi criteri che tu là non ci vai che oppure ci vai ma non fai un accidente oppure che quei soldi lì li mangi tutti ingerati o quello che vuoi noi non diciamo niente noi lo diamo su un lavoro pregresso e su una fattibilità futura ma non mettiamo becco sul fatto che tu ci vada non ci vada eccetera se però ci vai e porti a casa un lavoro decente noi allora ci impegniamo durante il city questa stanza dove siamo adesso è destinata a esporre lavori del vincitore in genere sono lavori ci abbiamo fatto fino adesso ma da quest'anno cambiamo abbiamo fatto lavori fatti con i soldi del premio siccome il premio viene dato alla fine dell'anno e l'art city a gennaio il candidato e il vincitore sempre un po' strozzato su quello che fa no? e quindi non è detto che proprio il lavoro che fa con i soldi del premio sia la cosa meglio migliore che abbia fatto quindi noi da quest'anno abbiamo modificato lo statuto ed esporremo invece i lavori che abbiamo già visto e sulla cui base abbiamo sono segnato il premio chiaro che se questo sparisce appunto è andato a mangiarsene i gelati non lo faremo hai capito? ecco però mi è sembrato che in questo modo mantenevo lo spirito di Gaiani cioè il fatto di poter andare lui diceva sempre io lui aveva 19 anni subito dopo la guerra è nato nel 29 e diceva io avevo tanto voluto andare come artista a Parigi e allora non ci potevi andare a Parigi perché non c'erano i soldi c'era appena finita la guerra dovevi fare l'università eccetera ma quest'idea di poter di poter allora io questo mi ricordo sempre questa idea del viaggio come libertà come se non vado perché devo fare quella cosa lì no no in totale libertà in totale libertà ecco e quindi diceva il premio ovviamente è gratuito come credo che è giusto che sia come i premi che si rispettino però diceva Celi sono delle opposizioni interne opposizioni perché effettivamente devo dire che in cinque anni diciamo che due valeva la pena darglielo questo premio una così così due no questo perché non arrivano abbastanza artisti di alto livello? sì noi abbiamo pensato che forse anche proprio la un po' c'è una come posso dire una omogeneizzazione sì questo è vero un'omogeneizzazione per cui è molto difficile darlo anche attribuirlo questo premio per cui rimani con dei criteri insomma diceva beh è corretto le fotografie sono fatte bene eccetera eccetera però c'è poca c'è poca inventiva poco sbuzzo come si dice qua c'è poco sbuzzo c'è poco sbuzzo hai proprio ragione c'è poco sbuzzo questo ancora non l'abbiamo in una l'abbiamo trovato probabilmente faccio un inciso il premio viene dato un anno dalla fondazione e un anno noi offriamo il denaro il premio all'accademia e lo attribuisce all'accademia ma quindi il target sono i ragazzi di studenti dell'accademia? no non solo allora quegli anni lì il primo anno infatti eravamo partiti abbiamo aggiustato il tiro i diplomati dell'accademia però i diplomati in fotografia dell'accademia sono pochissimi però era il primo e quindi c'era qualcosa per i due anni precedenti man mano che andiamo avanti un anno sì un anno no i diplomati allora da quest'anno già l'anno scorso noi abbiamo esteso a tutti i centri di fotografia alla fondazione di fotografia di Modena a Reggio Emilia alla facoltà di lettere l'anno scorso ha vinto una della facoltà di lettere laureata con la moglie di Marra che era un amico un giovane amico di Carlo lo conosceva bene eccetera però notiamo di anno in anno una sorta di uniformizzazione è difficile trovare quello che eppure siamo in un'epoca in cui l'immagine regna sovrana l'immagine regna sovrana ma forse proprio perché l'immagine regna sovrana comanda lei e detta sì sì ne vediamo troppa e allora quindi praticamente ci appiattiamo su questa enormità di divisioni di immagini di informazioni da cui siamo subissati alla fine quindi insomma notiamo a parte il fatto che sono tutte donne io non vedo l'ora di dare un premio a un maschio anche quest'anno niente è una cosa abbastanza strana e particolare strana però abbiamo avuto uno che forse era bravo quello gli abbiamo poi fatto anche una mostra non ha avuto il premio non ha avuto il premio perché dicemmo l'anno scorso beh lui ne ha avuti tanti ha già fatto ha avuto dei premi eccetera eccetera è anche un pochino un filino più vecchio dell'altra eccetera e sbagliando l'abbiamo dato a quest'altra che poi invece i premi li aveva avuti ma non li aveva messi nel curriculum uno due già questo e due aveva fatto delle fotografie che non erano dove la fotografia entrava ma era un viaggio di ricerca letterario dove la fotografia entrava di... ma sì non entrava neanche per cui tu guardavi queste cose andata a Cuba fra l'altro aveva tutti aspetti che uno aveva a Cuba qualcosa di Cuba Madonna Santa deve pur tornare a casa no lì poteva essere la fiera di Bologna che era la stessa cosa capito cioè non vedevi assolutamente il che denota non tanto la carenza di perizia dal punto di vista tecnico ma la carenza concettuale diciamo e quindi adesso siamo in periodo del premio come fu? no perché il premio viene dato alla fine dell'anno sempre perché i diplomati quindi alla fine dell'anno accademico? sì quindi dall'anno solare dell'anno solare per cui prendi dentro i diplomati di giugno ok capito? di giugno e settembre anche quindi a dicembre no noi lo diamo il bando lo facciamo a giugno facciamo a giugno e scade in genere alla fine di luglio ok fine di luglio e la giuria si riunisce a settembre il premio viene attribuito nella prima settimana d'ottobre ah quindi è già passato quello di questo anno? è già passato infatti questo le stavo chiedendo qual è l'attività della fondazione attività della fondazione? oltre quella del premio? dunque abbiamo ah beh sì noi esponiamo offriamo il nostro spazio e ospitiamo mostre ospitiamo una mostra per Art City però quest'anno no quest'anno ci mostriamo noi cioè mostriamo una serie di nudi inediti di Carlo Gaiani quelle fatte per il libro con celati il chiodo in testa abbiamo gli originali stampati proprio da Gaiani e esponiamo quelli ah beh esponiamo quelli con una introduzione di Luca Monaco della fondazione di fotografia di Modena che è molto appassionato si è molto appassionato alla figura di Gaiani e lo promuove in maniera anche dal punto di vista proprio concettuale conoscitivo letterario tra l'altro Gaiani scriveva molto bene benissimo proprio chi ha avuto la fortuna di avere una delle sue lettere da tenere lui non telefonava scriveva sempre o andava o scriveva ma telefonare pochissimo non gli dà fastidio quindi faremo quest'anno facciamo questo e comunque per Art City abbiamo sempre ospitato un artista l'anno scorso abbiamo ospitato un magnifico illustratore che è Davide Bonazzi che non so se tu lo conosci ma che vince premi a destra e a sinistra Davide è proprio è un ragazzo a parte il fatto è un ragazzo d'oro proprio un ragazzo splendido proprio ma fa delle cose di una bellezza di una delicatezza di un'intelligenza Davide Bonazzi poi altre volte abbiamo fatto abbiamo esposto al primo anno abbiamo esposto D'Agostino D'Agostino i quadri quello che ha fatto quell'albero bianco Giovanni D'Agostino che era un amico di Carlo i figli ci proposero e allora abbiamo fatto anche un'installazione di piccole cose naturali poi delle cose grandi di questi quadri delle cere di cose molto belle poi altre un'altra mostra che non era un granchè insomma così fotografie ma non tanto a volte va bene a volte va male e quest'anno invece abbiamo deciso che ospitiamo noi stessi quindi Art City poi abbiamo fatto ospitiamo mostre di altri e diamo noi materiale allora abbiamo ospitato adesso questa mostra qui prima c'è venuta la mostra di Baldini Massimo Baldini che è venuta più di 200 per 230 240 persone avevo paura che crollasse il pavimento che non è stabilissimo e quindi ospitiamo altri poi abbiamo fatto una bellissima mostra di nudi 60 59 nudi alla rocca di Bazzano la rocca di Bentivoglio tutto il mese di ottobre il mese della fotografia è stata una bellissima mostra quella quindi partecipiamo ad altre mostre offriamo materiale per fare mostre fuori e abbiamo e ospitiamo mostre poi quest'anno abbiamo fatto anche una serie di incontri proposti da un nostro consigliere che è uno storico anche lui vive nei monti Monti di Reggio Emilia Antonio Canovio adesso è in Cile personaggio stranissimo anzi è forse l'ultimo l'ultimo rimasuglio degli anni 70 anche se è molto più giovane però è proprio è però viene da quella è è gli anni 70 come si veste come parla come la concezione della vita proprio tutto anni 70 storico orale per cui lui ha sempre il microfono in tasca qualsiasi cosa tu dica viene registrata sempre e lui ha proposto questi quattro incontri sotto il titolo per un'arte affettuosa il primo incontro l'ha tenuto Barilli sui ritratti di Carlo i ritratti degli intellettuali i ritratti dei bolognesi eccetera il secondo l'ha tenuto Giuliano Scabia il terzo l'ha tenuto il direttore dell'accademia Mazzali un ex direttore dell'accademia e due assistenti uno perché l'altro si è malato alla fine quindi questo terzo incontro il quarto incontro Carlo l'ha fatto Piero Casadei amico fotografo membro della fondazione amico fotografo titolare di un vecchio studio bolognese studio Casadei per cui Carlo ha fatto moltissime no moltissime no alcune foto di pubblicità inclusa quella grandiosa con lui col frac e un pianoforte a coda nero questo bellissimo signore col frac eccetera quando venivano i miei studenti a trovare mi ha detto ma ma allora il suo marito è un concertista no no perché il seggiolino era un water bianco solo che lui per sé aveva ritagliato ma la foto pubblicitaria di Piero era questo magnifico pianoforte a coda questo bellissimo signore in frac ma il seggiolino era una cosa per sanitaria gli faceva tante volte da modello nel il quarto incontro l'ha tenuto lui per un'arte affettuosa quindi quest'anno è stato quest'anno siamo stati sempre in attività molta attività l'anno prossimo l'anno prossimo abbiamo detto che vorremmo stare un poco più tranquilli tranquilli cioè far andare avanti ancora meglio finire l'archivio perché Marta se no si occupa sempre di dell'organizzazione delle mostre eccetera però poi faremo qualcosa anche l'anno prossimo sicuramente perché poi come dicevamo prima l'anno prossimo ricorre il decennale per fortuna cioè per fortuna per modo di dire ma insomma è alla fine dell'anno il decennale quindi è un anno che in effetti è il decennale però nella mia idea che credo sia giusta però magari non è vero si sposta tutto al 2020 però sarà un anno di preparazione è un anno di preparazione in cui bisogna veramente lavorare e quindi io ci tengo ci terei moltissimo a fare una una mostra si un'antologica diciamo si coinvolgendo Barilli sicuramente perché Barilli è quello che è anche stamattina mi ha scritto di tentare il Veneto ma il Veneto io non pensavo a Bassano al museo di Bassano alla galleria di Bassano del Grappa ma c'è stata una persona che non secondo me a proposito di Barilli qual è stato il rapporto di Gaiani con la critica com'era il rapporto con i critici ah beh lui non non si proponeva in nessun modo era un uomo talmente schivo però Barilli l'ha sempre Barilli è stato veramente un amico come può essere un amico una persona così non posso dire formalmente apparentemente freddo che non lo è perché è veramente un amico squisito però è molto tutto d'un pezzo d'un pezzo eccetera però era molto amico di Carlo molto amico di Carlo e anche scritto di lui nei suoi libri c'è sempre lunghi riferimenti eccetera però Carlo non aveva proprio lui stesso non aveva rapporti con la critica poi lui diceva io non posso parlare con i pittori avendo abbandonato la pittura i pittori non mi vogliono non mi parlano più i fotografi dicono giustamente che io non so nulla di fotografia non so nulla di te e quindi anche da quella parte lì non trovo quindi era veramente un solitario un solitario andava avanti per la sua strada testa bassa questo è abbastanza interessante ma sono interessanti anche questi cassetti che si aprono e si chiudono pittura grandissimi formati ampi ampie campiture di colpo fotografia cose piccole paesaggi sono dei cambi radicali proprio in continuazione sì come mai secondo te queste scelte così drastiche secondo me è perché Carlo era proiettato nel futuro lui non non aveva non so come dirlo io sono tutta per la memoria io ho una memoria ancora adesso una memoria vivacissima fortissima Carlo no quando chiudeva una porta chiude cioè era proiettato tutto in avanti tutto in avanti niente indietro quindi il passato nell'umano e nel simbolico nel letterario nell'artistico eccetera non esisteva i ricordi magari nei cassetti profondi ma non venivano mai fuori lui non ha mai parlato né io ho mai chiesto quello che so di Carlo della sua vita privata prima che conoscesse me io se lo so l'ho imparato da altri non da lui non da lui non diceva di sé e non voleva sapere di te non gli interessava niente tutto cominciava dal momento in cui e si andava avanti quindi a lui sarebbe piaciuto o no secondo te il fatto che ci fosse adesso una casa museo che ricorda secondo me sì secondo me sì perché lui era veramente proiettato però un uomo fortissimamente radicato nella tradizione nella tradizione nel senso di un mondo non indietro perché guardava avanti però per esempio Carlo non si sarebbe mai trasferito come ti dicevo non si sarebbe amava New York pazzamente amava il viaggio pazzamente ma sapendo che doveva tornare doveva tornare qui non in Italia qui qui quindi sembrava quasi che il ricordo del ricordi del bagaglio del passato fosse rompeso una cosa che uno si lasciava alle spalle perché aveva tanto da vedere in avanti che non si poteva trascinare dietro tutto questo fardello tutto questo fardello e invece tornando alla fondazione la fondazione come si sostiene come riesce a finire con il lavoro gratuito con il lavoro gratuito col volontariato e io ci metto quello che ho io ho la mia pensione da io non sono ricca però ho la mia pensione da sono sola vivo in montagna quindi non è che abita le grandi esigenze tutto quello che ho lo metto qui dentro detto francamente insomma proprio senza senza mezzi senza mezzi tanto non è che questo poi si è una condizione in realtà di precarietà così di fatica che è comune un po' a tante istituzioni italiane tante piccole ma anche a volte grandi istituzioni italiane perché poi in proporzione ognuno ha gli stessi problemi perché sai noi facciamo di tutto per un po' reclamizzarci abbiamo il sito siamo su facebook facciamo però probabilmente ci vorrebbe ma poi in ogni caso tu anche comunque devi avere dei soldi tu perché non tutti vengono diciamo ma che peccato non averlo saputo prima guarda che esiste un posto così eccetera eccetera e certo che esiste un posto così però poi poi del resto è giovane diciamo così 5 anni è giovane tutto sommato è giovane e per essere così abbiamo fatto veramente dei miracoli secondo me pensare da zero proprio assolutamente da zero insomma è un lavoro abbastanza poi con nessuna con nessuno di noi esperto di queste cose perché l'unica che è esperta qui dentro è Marta che conoscerai che lei è un'archivista perfetta anche la vedi sembra fuori da un libro ma proprio e gli altri vengono tutti sono tutti io vengo da un altro mondo e non solo ma non mi sono mai occupata di queste cose quando avevo Carlo io avevo il mio mondo la mia università i miei studenti i miei libri lui aveva il suo ci ritrovavamo qui questo è il punto di D.I.E e nel viaggio ma io non sono mai andata non so ad aperture di mostre ho frequentato le gallerie e mai mai io i suoi colleghi dell'accademia li ho conosciuti quando lui è morto non prima tranne i suoi assistenti qualche volta e quindi questo viaggio della fondazione dove porterà qual è il tuo sogno? il mio sogno è che non ce l'ho detto francamente non ci penso perché se ci penso mi spavento mi spavento perché penso che magari proprio invece finisce in nulla e spero e spero di no spero di no certo che l'entusiasmo che ci metto io non vedo molte altre figure che ci sono tutti amici eccetera però innanzitutto con una certa età anche se più giovane di me comunque l'età c'è anche lì e bisognerebbe ecco questo sarebbe una cosa bisognerebbe trovare le idee e le strade eccetera per che aprissero sentieri per il futuro questo è è bello e anche stimolante perché è anche un po' lascia aperto lascia aperto a tante possibilità e chi lo sa insomma si possono infatti io cerco sempre di adesso abbiamo alcuni nuovi apporti appunto Luca Monaco Giuseppe Viarelli che è un allievo di Barilli abbiamo bisogno di gente giovane che sia nel mondo di oggi e che sia nel mondo dell'arte noi invece di Riffio di Raff veniamo tutti da altri mondi e ci unisce il ricordo di Carlo il desiderio hai capito? però invece c'è bisogno di qualcuno che condivida questo spirito e che però apporti una expertise sì sicuramente oggi per gestire una fondazione c'è bisogno di professionalità che gestiscano vari aspetti poi dopo del del fare attività magari potrebbe interessare anche te assolutamente a me interessa molto l'artista l'ho scoperto da poco infatti l'ho scoperto credo un annetto fa poi ho cominciato a guardare il vostro sito poi insomma adesso l'ha molto migliorato Mario sì l'ha molto migliorato perché non era un gran che ma non l'aveva fatto lui l'aveva fatto uno ragazzo nel 2014 appunto nel 2014 del Veneto non era era molto rigido molto adesso mi sembra molto più più intanto ci mettiamo adesso faremo un'area sto lavorando io a fare un'area stampa con la biografia gli eventi ha detto cosa ha detto lui piccole piccole frasi eccetera gli eventi che abbiamo fatto una lista degli eventi che abbiamo fatto in fondazione in modo da dare insomma l'idea di un'attività che c'è stata è stata anche ricca è stata molto soddisfacente ha riscorso successo e quindi è giusto che se no altrimenti sembriamo delle sì che c'è bisogno insomma del passato di questa conservazione ma però di far vedere che siamo proiettati però verso il futuro verso il futuro quindi anche con anche questo fatto dell'ICOM e della de Mary Storic è stata una un bel passaggio anche lì casuale arriva una gentile signora due anni fa per Art City e dice sono parlava inglese dice sono turca sono un architetto che sono invitata dalla facoltà d'architettura per fare una presentazione di un progetto eccetera stava qua un mese molto carina dice ma questa casa ma cos'è un museo dice no ah ma bisogna subito io sono nel comitato delle case storiche bisogna scrivere subito cosa che fece io non ci avevo pensato non sapevo neanche che esistesse e ci hanno accettato subito ed anche questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere anche perché veramente io credo che così come concepite così come l'aveva fatta lui sta casa non ce ne sono altre non ce ne sono tante diciamo in Italia la tradizione della casa museo è abbastanza viva però diventa scusa diventa museo più che casa diventa museo forse più negli scrittori sono case museo di scrittori ma Morandi guarda Morandi la casa di Morandi a Bologna eh no sì quella è proprio l'esempio tipico quello è troppo museo non c'è più la casa troppo museo non c'è l'aria tu non senti qui vieni qui dentro ci senti Gaiani che gira che ci lavora una volta che conosci le cose che ha scritto leggi ma te lo ritrovi qui dentro capito sì sì sembra sembra ancora abitata oggi sì sì assolutamente sia proprio la percezione di stare in una casa in una casa in una casa sì sì va bene allora lasciamoci con l'augurio che l'anno prossimo che l'anno del decennale sia l'anno di tante sorprese di tante sorprese eccetera e stabiliamo una collaborazione assolutamente mi farebbe molto piacere intanto grazie per questa intervista che ci hai concesso grazie a te e ci vediamo presto e ci vediamo presto e ci vediamo presto grazie a tutti